Vi racconto come si cura la parodontite, poi vi impressiono e vi farò capire quanto è difficile anche per un dentista curarla. Serve fare prima di tutto le fotografie al paziente, poi serve fare le radiografie al paziente, fare delle radiografie piccoline endorali, quelle che ti mettono la lastrina in bocca e fa la foto. Te ne deve fare almeno 16 di fotografie di queste e te le deve fare ogni 3-4 mesi queste fotografie perché poi deve andare a sovrapporre le fotografie vecchie con le nuove e vedere se è peggiorata la malattia. Poi deve fare un sondaggio di tutti i denti con la sonda parodontale. La sonda parodontale, altro non è che proprio uno strumentino, questo qua, si entra, ha delle tacche questo strumentino, si entra là dove ci sono le gengive tutte scollate, staccate dalle radici e si riempie che cosa? La cartella parodontale, che forse qualcuno di voi l'ha fatta in passato. Questa è una cartella parodontale, è praticamente che cosa? Un grafico, quello che dobbiamo fare, con tutte le zone dove si è staccata la gengiva. Ci sono diverse linee, la prima è la linea rossa ed è la zona di recessione della gengiva. La gengiva doveva stare qua, a questo punto, qua, e si è riposizionata qua. Quanto è profonda la tasca? Tu diresti 2 mm, 1 e 2, no. La tasca è quella che parte da qua, a dove si è riposizionato l'osso. Quindi in realtà sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm, più 2, 8 mm. Tutto quello che è oltre 6 mm, la terapia deve essere chirurgica, devo tagliare qua la tasca, tutta questa gengiva e portarla qua. A un certo punto si sarà scoperta la zona di divisione delle radici, il dente è perso. Perché qua non riesce il paziente a pulire. Dopo che io pulisco, dopo circa 2 settimane, qua c'è di nuovo il tartaro. E quindi ha fatto la cosa per niente. Tanto vale togliere il dente. Se tolgo un dente, cosa faccio? Metto subito l'impianto? No, perché non posso mettere l'impianto se prima non curo tutti gli altri denti. Quindi devo guardare la foresta, devo prima curare tutta la bocca. E nel frattempo cosa gli metterò in bocca? Una dentiera semi mobile, con i gancetti, che terrà per un periodo. Ma quella trattiene i batteri. Che è probabile che il paziente se la tiene in bocca di notte, tutte le notti. Perché se no la moglie lo vede senza i denti. E io vi racconto le storie che succedono reali. Perché nessuno si toglie la dentiera di notte. Nessuno se la toglie e se la tengono tutti in bocca per paura di. E poi dirà, fammi una dentiera in resina senza il metallo. Perché se no sbadiglio e quella si accorge che ho il metallo in bocca. E poi non mi bacia più. E allora la resina trattiene più placca del metallo. E la parodontite è peggiore. Inizia a perdere un altro e un altro dente. Perché non c'è neanche i soldi per affrontare tutta la terapia insieme. E allora il dentista che fa? Se non porta i soldi, fai finta di curarlo. Ha pagato stavolta il paziente? No. Aspettiamo. Quando torna? Torna il mese prossimo. Ok, il mese prossimo facciamo il curetage. Nel frattempo il paziente non torna. Perché i soldi ancora non ce li ha. Ok? E torna dopo sei mesi. E c'è sempre un'altra sorpresa. Sfiducia nel dentista. Il dentista mi ruba i soldi. Ok? Le prime tasche si sono formate in realtà non per colpa del dentista, ma per colpa dello Stato. Che non ti ha fatto la diagnosi precoce. Se lo Stato ti avesse fatto da ragazzo la diagnosi precoce, lo scopo era quello di non far formare le tasche. Perché vi ho fatto questo discorso? Perché una volta che ne entri nel vortice non ne esci più. È veramente difficile uscirne. O anche se hai i soldi per curarla, e costa veramente tanti soldi curarla, perché devi fare il curetage ogni 6-7 mesi, e sono 700 euro a quadrante o a bocca, che può costare, alla fine ti svuota il conto in banca, questa malattia, dai tanti soldi al dentista e non hai risolto nulla, e ancora devi curarla. È una malattia che viene trascurata a livello sociale, perché è difficile da curare, perché bisogna fare tante cose, e bisogna prenderla anche nel tempo giusto. Se la prendi già troppo tardi, l'unica terapia è togliere tutti i denti. Quando vai a curare la malattia, questa malattia parodontale, tra le varie cose che ci sono da fare, c'è togliere tutti i fattori di rischio. Il fumo. Quanti saranno disposti a smettere di fumare? Dottore, guarda, faccio il curetage, però non voglio smettere di fumare. Ok. Facciamo il curetage, però non smetto di fumare. Faccio il curetage, l'antibiotico, ma non tolgo i ponti, perché li ho fatti due anni fa i ponti. Eh, ma quei ponti vanno tolti perché accumulano cibo, perché i libri della parodontologia dicono che devi togliere tutti i ponti dalla bocca alle capsule. Più devi togliere le carie e i denti del giudizio. La bocca deve essere resa facile da pulire. Se la bocca non viene resa facile da pulire, il curetage li puoi fare bene, ma a casa il paziente farà l'igiene fatta male. E a quel punto sta di nuovo punte a capo. Ci sono poi, magari, impianti all'interno della bocca che qualche dentista gli ha messo, nonostante avesse già la parodontite. E gli impianti ancora non li poteva mettere. Quegli impianti attorno hanno sviluppato per implantite, però li ha pagati troppo e non li può togliere, perché hanno perso appena appena un po' di osso, ma c'è ancora alcune spire, ma c'è già delle spire che sono esposte. Quelle spire dell'impianto si infarciscono di batteri e di tartaro e sostengono la parodontite. Il protocollo corretto sarebbe andare a limare tutti gli impianti e renderli lucidi, come dei colletti lucidi, questi impianti, quelli che sono esposti, che hanno sviluppato la perimplantite. Ve la faccio vedere, una perimplantite. La perimplantite quando si inizia a staccare, vedete qua, la gengiva dall'impianto. Praticamente la tasca che si sviluppa attorno alle radici si può sviluppare anche attorno agli impianti, perché il biofilm si attaccava qua ai denti, il paziente continuava a fumare, i batteri si erano riselezionati, aveva iniziato bene, con tanta grinta, tanta voglia di cambiare il microclima batterico e poi ha ripreso le vecchie abitudini. Si crea la perimplantite prima su uno, poi su due, poi sugli altri impianti e a un certo punto la malattia riprende. La causa cosa sono? I batteri o, vi ho detto prima, le abitudini del paziente, più la predisposizione genetica, non i batteri. I batteri non ne hanno colpa, sono lì i batteri, ma se non vengono rimossi, quotidianamente, oppure vengono eliminati i batteri buoni dal fumo, per esempio, quelli prendono il sopravvento e se il paziente è geneticamente debole, fanno i danni. La parodontite è un male silente in più, perché il paziente non se ne accorge, non ha dolore, non hai come ti fa male, delle volte il paziente si accorge di avere la parodontite perché il dente si muove, e quindi ha la percezione che c'è qualcosa che non va, perché c'ha l'alitosi e gli dicono, vatti a fare un controllo, oppure perché c'ha dolori, perché le recessioni gengivali gli hanno portato a sviluppare delle carie forti che hanno portato i denti a dover essere devitalizzati, allora ti viene la pulpite, dolore forte, pulsante, vai dal dentista, il dentista ti dice, c'hai una parodontite, perché c'hai una malattia cariosa che è arrivata molto oltre, oppure se ne accorge il paziente perché ormai i denti sono tutti che sanguinano, cioè le gengive sono tutte che sanguinano, e allora c'è un sanguinamento profuso, si sveglia magari la mattina che c'ha il cuscino proprio macchiato di sangue, e dici non è normale, ti spaventi, lì vado a farmi un controllo, vado a fare un controllo perché ho sputato sangue, uno alla prima cosa che pensa c'è un tumore, non pensa più alla parodontite, pensa, vado al dottore, medico ai famigliari, dice stamattina ho trovato, ho visto non so qualche film che quando è sangue è pericoloso, penso di avere un tumore, no c'è la parodontite, gli dico, è peggio perché resti in vita ma ti costerà tanti soldi, ok, resti in vita ma ti costerà tanti soldi, vai in uno stadio successivo dove sai di avere un problema, ma oggi la lezione era solamente su non so di avere un problema, ok, come si diagnostica la parodontite, l'unico modo di diagnosticare la parodontite non lo può fare il paziente da solo, tipo andare a cercare su internet dieci modi per riconoscere la parodontite, come i sintomi della parodontite, vai da un dentista e fai una diagnosi, vai da un dentista fai l'analisi genetica, l'analisi dei batteri e il sondaggio parodontale per vedere che non ci siano delle tasche, le tasche parodontali già quelle di per sé bastano con un sondaggio per fare diagnosi di parodontite, poi le radiografie endorali, l'analisi batterica quella ci dà conferma di quali tipi di batteri ci sono e di quanto è grave la parodontite, il grafico come questo ci dà un'idea grafica di dove sono maggiormente i danni, in questo caso sono nei molari i danni, meno nella parte anteriore, anche se nella parte anteriore in realtà è più grave perché ha perso già gli incisivi laterali, vedete quelle barre, quello significa che il dente è stato estratto, quando iniziano ad essere estratti più denti poi c'è anche l'aspetto biomeccanico che inizia ad essere un pochino più sfavorevole come qua per esempio il paziente inizia ad avere perso qua molto osso, ha già dei ponti, ha già degli impianti, molti denti devitalizzati, questa è una bocca ormai dove il paziente ha speso già tanti soldi perché ognuna di queste terapie l'ha pagata ma l'osso si sta tutto continuando a riassorbire l'osso che doveva stare qui, i denti non dovevano essere devitalizzati, non doveva avere questo metallo incollato sui denti, questa è già una storia molto 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 grave.